Allora io credo veramente noi dobbiamo tenere, innalzare la qualità del dibattito pubblico del nostro paese. È veramente non accettabile che un paese del G7 perda 24 ore a discutere se 5 persone hanno preso 600 euro che potevano, dovevano, non dovevano, non si sa se era legale o meno, etico o meno, mentre il PIL fa meno 15 e mentre, cosa importante, è non nota perché non l'ho vista nei trend twitter, il governo ha chiesto all'Unione Europea di avere accesso al prestito sure per circa 28 miliardi, prestito senior, anche questo non si sapeva, a tassi di interesse che non sappiamo, quindi non si capisce com'è che noi andiamo a chiedere un prestito senza sapere quale sarà il costo e lo svantaggio fondamentale, ne abbiamo parlato al tempo del mese che quando l'Italia chiede un prestito senior, questi 28 miliardi vanno in testa ai 2.000 e circa 300.000 miliardi di BTP e quindi ne alzano il rendimento, quindi già a bocce ferme, senza sapere a cosa servirà questo sure, senza sapere quali saranno i tassi di interesse che noi dovremmo pagare, sappiamo che avrà un effetto negativo e farà alzare il rendimento dei BTP, quindi il primo atto è quello di avere un costo maggiore per la nostra economia, tra l'altro, ripeto, da un punto di vista di comunicazione e di informazione fatto in un momento mentre 60 milioni di persone erano preoccupate l'altro ieri per la Juventus, due giorni fa per il tweet del sottosegretario di Stefano, oggi per questi 600 euro, mai mai parlare di cose importanti.